Il Presidente Berlusconi, l'Abruzzo ha un forte deficit per quanto riguarda le infrastrutture, molto è stato fatto ma molto deve essere ancora fatto, non di meno il problema dell'occupazione, sicuramente impellente in questa regione. Quali potrebbero essere gli interventi, le correzioni che potrebbe apportare il centro-destra e Forza Italia a questa situazione? Che cosa si dovrebbe fare? Credo tornare a un interessamento diretto dei vertici del Governo regionale, portando anche la questione, in caso di necessità monetarie, all'attenzione e alla decisione del Governo centrale di Roma, ma che bisogna partire innanzitutto dal creare posti di lavoro. Si deve dare modo alle imprese dell'Abruzzo di investire di più, per fare questo credo che ci siano diverse cose da programmare. La prima è quella dei raccordi con l'Italia, i raccordi ferroviari con Roma sono praticamente inusufruibili. Dieci anni fa avevamo progettato l'ampliamento, il prolungamento della pista dell'aeroporto di Pescara a dieci anni di distanza. Questo non è ancora stato fatto. Ci sono tutti i collogamenti autostradali che erano perfetti al momento della loro creazione, ma che adesso hanno subito l'usura del tempo, sono ancora più cari per chi li deve percorrere, e anche le reti della circolazione normale, tutte queste devono essere riviste con importanti investimenti. Infine, bisogna secondo me attuare due provvedimenti. Il primo, una fiscalità di vantaggio per le imprese che ritornano qui e per le imprese che qui investono. La seconda cosa è attuare immediatamente una detassazione e una decontribuzione per le imprese che assumono giovani dai 18 ai 35 anni, e anche magari per le imprese che assumono persone dai 55 anni in su. Per chiudere questa nostra conversazione, gradevolissima peraltro, torna all'Aquila dopo dieci anni dal terremoto, con quale spirito ha ritrovato questa città e anche tanti volti amici? Guardi, con commozione, devo dire. Mi hanno chiesto di recarmi in uno dei quartieri che noi avevamo costruito. Sono stato accolto con grandissimo affetto. Signore, anziani di dieci anni, come sottoscritto di più di allora, mi hanno baciato e abbracciato. Qualcuno un po' troppo, e però sono segni che mi rimangono piacevolmente a ricordarmi l'accoglienza che ho avuto. Sono stato anche invitato per un aperitivo in una casa di una persona che conoscevo fin da allora. La casa era molto bella, le dichiarazioni degli abitanti erano del loro massimo conforto nell'abitarla. Dalla casa si prospettava sul parco centrale con alberi di alto fusto, giochi di bambini, zone di sosta e di riposo. E giù, salutarmi da giù, mentre io mi affacciavo al balcone, c'era una moltitudine di persone che mi inviava baci e saluti vocali. Grazie. Grazie. Grazie.